Ciao, ciao a tutti, benvenuti, questo è De Camerette, questo è Parlarne Tra Amici, io sono Federico Sardo e oggi l'amica che abbiamo ospite è Caterina Marietti, fondotrice di Baupublishing. Ciao Cate. Ciao Fede. Ciao. Comandiamo? Va, va, ormai noi siamo chiusi, io sono a casa da, boh, ormai credo due anni, quindi non, cioè va, sono qua, tu come stai? Va bene, cioè un po' misto tra, mi sono un po' rotto le palle e mi sono un po' anche abituato, ciao Beatrice, Beatrice ci conferma con questo messaggio che ci si vede e ci si sente, quindi la ringraziamo. Ciao. Tu li vedi, commenti? Adesso sì, ho messo su live comments. ma quindi posso anche scriverti delle robe brutte in chat, in private chat, io? Che figo. Scusa, private, quella è pubblica, cioè quella è la... No, di fianco c'è private, quindi speravo di... Ah, ok. Eh, vabbè, e niente, dunque sì, un po' rotto le palle, un po' abituati, ciao Simone Tribuzio. Ciao Simone. E un po' abituati al punto che, anzi, forse da certi punti di vista quando si potrà ricominciare ad avere una sorta di normalità bisognerà anche riabituarsi ad essa, non è così banale. No, sarà abbastanza... cioè, più che altro, un po' da una parte tu dici, non lo so, secondo me c'è ancora un po' di paura per... io ho ancora paura a uscire, come ti stavo dicendo prima, però probabilmente a un certo punto magari cambieranno un po' gli stati d'animo, non lo so. Salutiamo Tommaso, che scrive già private, e... sì, appunto, tu hai ancora un po' paura a uscire, e secondo me giustamente, nel senso che secondo me da domani ci sarà un po' cioè questa fase due in realtà misteriosa e che non si capisce bene in cosa consista, secondo me verrà molto vissuta come un liberi tutti, come un... Io devo dire che al parco vicino a casa nostra... Ti abbiamo appena salutato, Tommaso, non ti lamentare, ti abbiamo appena salutato. Sì. Dicevi del... Dicevo che al parco, tra casa mia e casa tua, oggi c'era un bel po' di gente. C'erano degli assembramenti di bambini non indifferenti. Anche Cesare, che è stato ospite della seconda puntata di Parlamento Amici, mi pare, oggi mi diceva che questo weekend, sotto caso sua, se nei weekend scorsi vedeva il 10% della gente che c'è in un weekend normale, questo weekend vedeva invece il 70% della gente normale. Guarda, io ho scoperto che un botto di gente è il cane, è molto più di quella che pensi. Cioè, ne è veramente una quantità devastante. Tu ne hai preso uno apposta per la quarantena, no? Io ne ho uno per ogni giorno di quarantena. Ho casa piena. Sì. Lo so che non vedi l'ora di venirmi a trovare e vederli tutti. Ma io, in realtà, prima... Purtroppo questa diretta è già fallimentare, perché prima di connetterci, io volevo salutare il suo cane, che era il motivo vero di questa diretta, era semplicemente... Io volevo trascorrere un po' di tempo con il suo cane e in realtà il suo cane non mi ha cagato di pezza nel pre-diretta, quindi secondo me possiamo anche staccare... È chiusa, è finita, basta. Dopo quasi a quattro minuti, secondo me è andata, basta. Tanto il cane non mi ha voluto cagare. Comunque voglio farti capire che io ti voglio bene che sto saltando un giorno in pretura, che stasera c'è un giorno in pretura su Rai 3. E quindi, cioè, è un grande atto di congiunzione e di affezione, sappilo. È un grande gesto di amicizia. Ma lo puoi recuperare su Rai Play, immagino? L'ho scaricato, lo sto scaricando sul decoder di Sky. Perfetto, bene. No, almeno sono più tranquillo anch'io del fatto che... Ma se vuoi poi te lo passo, tra l'altro, che so che ci tieni. Ma qual è il tema di oggi? La Lollobrigida. Perché cosa c'entra con un giorno in pretura? Non lo so, ho visto la pubblicità ed ero già fomentata, non preoccuparti. Ma cosa ha fatto? Ha ucciso qualcuno la Lollobrigida? Avrà testimoniato a qualche... Io non la so la storia della Lollobrigida, io non so il cazzo della Lollobrigida, però era già... Ma non la riesco a collegare a un giorno in pretura, non sapevo cosa... Comunque non sono solo omicidi, cioè ci sono pure altre robe, cioè gente che ruba. C'erano tutte le puntate su cosa, su Vallettopoli, quelle robe lì anche, no? Lollobrigida è un po' fuori età per Vallettopoli, però è vero che non sono solo omicidi, hai ragione. Forse mi confondevo con chi l'ha visto. Sì, se vuoi mercoledì ti faccio sapere di cosa parlano a chi l'ha visto, però... Ma tu riesci, cioè hai mangiato, riesci a digerire... Non ti viene... Non stai male a stare giù così? Ho mangiato e boh, spero di aver già digerito prima di cominciare, non so. Scusa, me l'ha chiesto Tommy prima di chiedertelo. Ok. No, no, mangiare ho mangiato, ho mangiato un hamburger. Anch'io, con l'anduia. Burka, c'è lusso. Hai visto. Dunque, possiamo continuare a parlare di amenità per ore, o possiamo passare anche a parlare della tua figura professionale? Cosa ne pensi? Giuro che ti rispondo seriamente. Bene. Dunque, come tutti sanno, come tutto l'universo sa, tu sei fondatrice di Baupublishing, che è una delle case editrici, direi senza timore di smentita, di fumetti più importanti d'Italia, che ha pubblicato tanti artisti importanti, famosi, anche internazionali. Mi viene in mente, non so, Strangers in Paradise di Terry Moore, mi viene in mente Bone, mi viene in mente tante cose di Portugal, e tanti autori italiani anche, tra cui Alessandro Baronciani, che salutiamo, e soprattutto forse l'autore più famoso del vostro catalogo, è direi sicuramente Zero Calcare, che del resto è anche uno dei, anzi, probabilmente il fumettista più famoso d'Italia. Quindi... Che tra l'altro il maledetto giustamente ha iniziato a fare tutta quella roba dei cartoni animati adesso. Non voglio bruciarti le domande, scusami, vai. No, no, di pure. No, dicevo che quel maledetto adesso, facendo tutta quella cosa dei cartoni animati e propaganda, gli sono arrivati un botto di fan nuovi e di lettori nuovi, solo che l'ha fatto durante la quarantena, e quindi con le librerie chiuse è stata una mossa di marketing molto furba. Ok, non ci avevo pensato. Noi sì. Noi sì. Ma addirittura ancora... Cioè, c'era ancora gente che non lo conosceva? Cioè, gli sono arrivati dei fan nuovi, quindi è possibile che abbia... che acquisti ancora dei fan? Esisteva ancora gente che non lo conosceva? Sai qual è la roba? Cioè, sembrano quelli che sono arrivati dopo un po' la profezia e poi anche dopo tutto lo strega, quindi sono fan un po' che non sanno niente di lui, quindi arriva una roba, un po' una massa senza scrematura, come non era abituato da un po'. Cioè, che magari non sanno niente delle cose politiche, delle sue cose, e quindi è una massa un po' indistinta di cose. Sono un po' quelli che magari certe volte gli scrivono sei bravo, ti consiglierò ai miei amici, spero che tu abbia successo un giorno e possa pubblicare dei libri, ecco. Già, speriamo, speriamo. Vero, vero, speriamo. Speriamo che possa pubblicare dei libri. Un bocca al lupo, zero. Un bocca al lupo, salutiamo. Un bocca al lupo. No, dunque, appunto, la domanda più semplice, più banale è come una casa editrice si sta vivendo questo periodo, o si è vissuta questo periodo, non mi è neanche chiaro se parlarne al passato o al presente. Per dire, ecco, una cosa che non ho neanche capito, da domani le librerie sono a tutti gli effetti aperte normalmente? Allora, teoricamente, gran parte delle librerie, alcune librerie hanno già aperto da due settimane, però non nelle regioni come tipo la Lombardia, dove c'era ancora il divieto. Da domani, teoricamente, tutti potrebbero essere aperti. Stanno... Tanti stanno continuando a fare consegne a domicilio oppure fanno consegne alla porta e quindi, boh, si vedrà la roba... Noi siamo chiusi praticamente... Cioè, non siamo chiusi, siamo in un smart working da quasi tre mesi. E non so di... Cioè, io ti direi quasi che questo si chiude un periodo e da domani probabilmente se ne apre un altro, perché ci sono stati... Secondo me si possono dividere in due le cose. Cioè, tra questo che è stato il periodo in cui tutti ci siamo dati da fare per comunicare, tenere alta l'attenzione, e da domani bisognerà capire come comunicare portando le persone alla vendita. Quello sarà un pochino diverso. Poi è ovvio che noi adesso abbiamo un botto di libri che abbiamo stampato prima della quarantena o appena è iniziata la quarantena che devono ancora uscire. Noi fino al 14 di maggio il nostro distributore non distribuisce le novità. Quindi a quel punto potremmo dirci operativi, di nuovo operativi. Quello sarà un po' il momento in cui riusciremo ad avere una minima idea di quello che sta succedendo. Ma quindi voi comunque come casa editrice avete indubbiamente... Cioè, credo che la risposta sia sì, ma ti chiedo di spiegarmelo meglio. Avete comunque rimandato delle uscite che erano in programma in questo periodo? Beh, sì, perché comunque noi da quando è iniziato il lockdown della Lombardia non abbiamo più potuto far uscire niente. Quindi il distributore... Penso anche che anche gli stampatori fossero chiusi, no? No, gli stampatori erano operativi. Come noi potevamo... Teoricamente noi eravamo tra le sigle che potevano ancora essere aperte. Per tutto il periodo della quarantena noi teoricamente avremmo potuto andare in ufficio senza avere nessun problema. Sì. E così anche gli stampatori, perché comunque noi facciamo parte della carta stampata, quindi come gli stampatori dei quotidiani i nostri stampatori sono rimasti aperti, no? L'ultimo. È vero, non ci avevo pensato. Eh sì, noi siamo... Cioè, credo che più o meno il codice dell'attività che è quello che ti diceva se potevi rimanere aperto o no fosse più o meno uguale a quello dei libri... Cioè, dei giornali. Quindi noi abbiamo potuto sempre essere aperti e così anche tutte le stamperie. Certo, il problema erano i trasporti dallo stampatore fino al magazzino nostro, i magazzini e anche chi poi fa tutto... porta i libri nelle librerie e le librerie che erano chiuse. Però fino all'inizio della filiera noi eravamo aperti, ecco. E voi vi siete principalmente organizzati quindi dicevi comunque smart working come redazione. Noi stiamo lavorando tutti da casa siamo più o meno in pari anche con la lavorazione dei libri però ovviamente stiamo lavorando tutti da casa da settimane. E come l'hai vissuta? Questo te lo chiedo anche da... Cioè, lo sto chiedendo anche tra virgolette ma in realtà tra virgolette fino a un certo punto all'imprenditrice, no? Cioè, si sta anche parlando molto di come tante aziende che magari prima erano restie allo smart working questa esperienza ha dimostrato che alcuni lavori comunque sono fattibili anche smart working eccetera eccetera. Tu da datrice di lavoro in questo caso come hai recepito questa scelta? Cioè, pensi che anche che anche nel futuro sarà una cosa che potrete implementare più agevolmente o comunque è stata una grande mancanza da un punto di vista di operatività eccetera? Allora, di sicuro tutta la settimana mai più. Cioè, finita... Quando sarà finito tutto questo tutta la settimana in smart working è abbastanza... è difficile è una roba... cioè, anche tutto il fatto di... Cioè, ci sentiamo per comparti non c'è un momento di condivisione unico in cui tutti... Io sono abituata se mi viene a mente una cosa posso andare in un ufficio posso andare in un altro posso andare in redazione quindi questa cosa di lavorare un po' per comparti dire ok, oggi ci sentiamo noi domani ci sentiamo con i grafici dopo domani con i redattori è abbastanza... è pesante quindi lo si fa lo si può fare però è anche solo c'è una banalità quando in redazione quando a un certo punto devi rileggere le bozze o devi inserire le correzioni nei testi eccetera il redattore è di fianco al grafico e le detta al grafico gli fa vedere con la mano cosa deve cambiare eccetera farlo per telefono ti raddoppia il tempo certo e quindi noi abbiamo la fortuna di poterlo fare però poterlo fare non vuol dire che sia una cosa comoda o che sia una cosa piacevole e che non che sia una cosa facile ecco credo che magari potrebbe essere una cosa sicuramente che implementeremo per i prossimi mesi per la sicurezza di tutti però quando sarà possibile mi sicuro una buona parte della settimana sarà in ufficio ma lo sento anche dai ragazzi dalla redazione eccetera cioè anche per loro è difficile poter riuscire a gestire questa cosa certo ma sì infatti ho visto anch'io che comunque pur potendo lavorare da casa eppure essendo forse anche più produttivo che dall'ufficio perché hai meno distrazioni eccetera però hai anche meno contatto diretto con gli altri che comunque si traduce nelle cose che si fanno in collaborazione nel essere più lunghe più macchinose cioè banalmente un conto se io devo dire una cosa a una persona che è nella mia stessa stanza oppure se devo telefonargli o mandargli una mail o che ne so sì anche solo ma una delle cavolate o anche solo avere cioè noi spostiamo anche grosse quantità di file grossi perché quando devi mandare allo stampatore quando devi ricevere tutte le cose per tutti si chiamano impianti che sono quelli i file con cui fare il libro è una grossa quantità di roba e ovviamente in ufficio siamo attrezzati abbiamo gli hard disk abbiamo tutte le cose di backup a casa non ce le abbiamo certo e come ha funzionato il discorso della vendita online di libri cioè allora tanto per cominciare ti chiedo c'è stata una una flessione importante non so rispetto a le vendite su amazon che forse devi contare che amazon per un grosso periodo di tempo ha smesso di vendita cioè vendeva solo gli oggetti di prima necessità quindi i libri non erano tra questi quindi è ovvio che marzo e aprile saranno quando avremo i rendiconti saranno una bella botta perché non ci sono cioè non c'è niente l'unica cosa che c'è è il ci sono gli altri store online come può essere ibs però sono una fetta più cioè è una fetta di pubblico un pochino diversa rispetto a quella di amazon ecco dall'altra parte noi abbiamo uno shop online che ha continuato ad andare però non è tutta non è una cosa grossissima ecco non è amazon non è amazon e comunque c'era una persona sola che era Michela a fare tutti i pacchi tutto il giorno lo shop online di bau non è amazon quindi tu non sei già no no peccato da un certo punto di vista peccato vero altri meno per esempio vabbè tu hai più capelli quasi così però e dall'altra parte però c'è il pubblico che si è cioè c'è un sacco di lettori che hanno scoperto il libro digitale quello è stato abbastanza credo che i numeri siano allora come fatturato non sono niente che ha a che vedere con un un mese di vendita con le libri aperte però le persone hanno scoperto che si può fare cioè era una cosa che soprattutto per il fumetto credo che era ancora una cosa abbastanza indietro come proprio come mercato e sicuramente un bel po' di gente ha scoperto che può farlo ha preso un sacco di offerte cioè hanno anch'io ho preso un sacco di offerte da altre case editrici che hanno messo libri in offerta in questo periodo e e hanno scoperto che si può fare e quindi potrà sarà un'opzione nei mesi futuri secondo me per per quelli che l'hanno scoperto tra prenderlo magari a prezzo pieno in libreria e invece dire magari mi prendo una cosa che costa un po' meno non sono sicura di quello che è e quindi me lo prendo a prezzo inferiore sul digitale quello sì certo e dicevi che invece il vostro shop online è stato interamente gestito da una sola persona cioè da un ufficio perché comunque era l'unico che andava che andava in ufficio è l'unico che andava in ufficio tanto noi le spedizioni dal magazzino per avere i libri che ci mancavano arrivavano abbastanza regolarmente perché alla fine i fattorini non hanno mai smesso di consegnare e quindi c'era una sola persona che faceva che fa ancora attualmente i patti e li porta in posta sai qual è stato il problema più grosso? provare i francobolli ah sì? beh ma scusate i tabaccai sono aperti sì però nessuno tiene più i francobolli ah a tu hai mai chiesto un francobollo no negli ultimi cinque anni al massimo una marca e ma prima come facevate? perché prima c'eravano i corrieri? no però prima c'era più smerce anche i tabaccai avevano sembra che a un certo punto sembrava che non ce li avessero più da nessuna parte i francobolli ma neanche alla posta centrale ce li hanno ok bello è interessantissimo quindi poteva andare poteva andare direttamente casa per casa a consegnare senza spedirli ma ci sono sai che c'è un sacco di persone che non so se è per colpa di Amazon che comunque ti dà abbastanza un automatismo nella spedizione sul nostro shop puoi scegliere tra la posta normale e il corriere solo che la posta normale è posta normale cioè non è tracciata non sai quando quando arriva è ovvio che ci mette quelle uno due tre settimane e un sacco di persone non hanno ben chiaro il concetto di posta normale senza tracking nonostante lo scelgano ah vabbè cioè lo scelgono perché vedono che costa meno sì però ti chiedono il numero del tracking esatto perfetto eh vabbè no mi chiedevo ma i libri che sono stati appunto che dovevano uscire non sono usciti quindi adesso che cosa succede che escono quelli e quindi a cascata ci sono dei ritardi su quelli che erano previsti successivamente cioè come funziona allora noi adesso inizieranno a uscire alcuni cioè tutti quelli che sono stampati quindi dal 14 maggio almeno per tutto maggio le uscite saranno quelle che erano che dovevano essere quelle di marzo più la ristampa di Cobane Calling che abbiamo stampato che ci metteva un po' di più a stampare e quindi è arrivato comunque a inizio lockdown e poi abbiamo sai cos'è alcuni libri non li puoi spostare cioè hanno delle andavano bene per l'estate erano boh erano legate a qualche evento qualche giornata qualcosa e quindi quelli lì non li puoi spostare gli altri andranno un po' a scalare quindi alcune cose verranno rimandate anche all'anno prossimo perché comunque se tu conti se hai un tot di noi stampiamo una sessantina di titoli l'anno che è tanto e se tu fai uscire quando è partita about publishing con l'idea di stampare cinque libri l'anno un attimo cinque libri l'anno cinque e però capisci che se fai uscire sessanta libri spalmati in undici dodici mesi è una roba se ne fai uscire sessanta stampati in spalmati in dieci nove è abbastanza cioè devi poter rimandare qualcosa credo che l'abbiano fatto un po' credo che lo facciano tutti anche perché se no ti ritrovi con una massa in forme di cose che non dici neanche a promuovere a parlarne e soprattutto il problema grosso sarà noi non avremo le fiere quest'anno probabilmente e quindi anche lì hai un hai un megafono in meno di persone che parleranno dei tuoi libri senza le fiere perché la fiera è un assembramento la fiera è un mega assembramento figurati Luca esatto quindi ma Luca quando è che accade a novembre è il 31 è il weekend del 31 ottobre e quest'anno si sta già parlando di cioè hanno già detto se ci sarà se non ci sarà no non l'hanno ancora non è ancora non è ancora stato detto per ora gran parte delle cose sia che sono state l'unica che è saltata è la fiera per ragazzi di Bologna che però era una fiera più del settore e però stanno facendo la fiera online che inizia domani e le altre quelle che sono state rimandate all'autunno e quelle dall'autunno per ora è tutto nessuna è stata cancellata però noi ovviamente noi lavoriamo come se si potessero fare le fiere i festival e in caso si possono fare a un certo punto le presentazioni però bisogna avere un piano B perché se no a un certo punto ci ritroviamo senza queste cose ecco certo e per il momento appunto citavi le presentazioni la situazione presentazioni al momento com'è nel senso le librerie sono aperte ma immagino che non si possano fare le presentazioni perché costituiscono una sorta di assembramento le librerie sono aperte però comunque hanno tutte sto vedendo che hanno tutte le limitazioni quindi due persone al massimo due persone per volta o magari anche un pochino di più se pensi a una libreria grossa come può essere Duomo però sono sempre un numero limitato di persone che può andare e dicevo leggevo tipo una persona per famiglia cioè delle limitazioni abbastanza grosse per cui sicuramente le presentazioni in libreria come sono sempre state almeno fino alla fine dell'estate non sono possibili ecco certo e dal punto di vista invece della comunicazione della promozione dei libri come sta funzionando cioè io mi ricordo cioè non mi ricordo ho parlato recentemente appunto anche qui in diretta con Emiliano di 42 Records che mi diceva che loro stavano trovando soprattutto vabbè consideriamo anche che si parla ormai di un mese fa abbondante quindi poi magari le cose si sono evolute nel frattempo però mi diceva che stava trovando grossa difficoltà in due sensi nella promozione sia a trovare degli spazi nel senso che comunque ovviamente tutte le testate tutti i media erano monopolizzati dalla questione virus e magari avevano meno spazi per parlare di dischi o in questo caso di libri eccetera e poi anche che lui stesso si sentiva un po' in imbarazzo o comunque viveva un po' problematicamente la cosa in questo momento storico di dire oh esce il nuovo disco di X parliamo del disco di X quando gli sembrava anche fuori luogo da un certo punto di vista allora vai 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 come sta andando come sta andando il discorso promozione comunicazione dei media allora è ovvio che abbiamo riscontrato lo stesso problema di Emiliano perché per molto tempo gli spazi sono stati monopolizzati giustamente per carità da un altro tipo di notizie e quindi anche tutti gli spazi però il problema era anche anche se avessimo avuto gli spazi noi non avevamo la novità e quindi c'è il problema un pochino anche di sia le testate che vogliono sempre parlare della novità e quindi hai questa cosa che se tu non avevi la novità non c'era niente di cui parlare poi non c'erano gli spazi un sacco di giornalisti comunque hanno avuto un po' di problemi anche a trovare gli spazi loro perché tanti hanno tracassa integrazione tagli perché comunque stiamo muovendo tutto e quindi sicuramente sui media tradizionali è stato un pochino più difficile e immagino che ricominceremo solamente adesso a iniziare a vedere un pochino di nuovo gli spazi sul web è stato un po' diverso perché comunque noi abbiamo continuato per un po' a lavorare sul abbiamo allora appena finito il lockdown appena ha iniziato il lockdown abbiamo fatto un mini festival virtuale perché credevamo cioè dovevamo avere la festival di cartoon mix qua a Milano quindi l'abbiamo fatto virtuale e era aveva una finalizzazione anche un po' di vendita perché comunque era legato a articolo c'era tipo capitano d'artiglio ha fatto le dediche a richiesta a tutti su twitch quindi aveva fatto questo tipo di comunicazione qua e invece negli ultimi due mesi la comunicazione è stato più comunicare quello che succedeva e comunicare un pochino più ampio spettro la casa editrice e gli autori quindi ad esempio io ho fatto le dirette su instagram due tre volte a settimana cosa che non avrei mai pensato di fare nella mia vita perché comunque non sono il tipo di persona che di solito è abituata cioè io comunque sono l'editore non sono una persona che si espone non sono l'autore non ho e quindi abbiamo fatto questa cosa qua e sono state abbastanza seguite anzi hanno avuto un ottimo riscontro però è ovvio che tu comunichi non stai comunicando il libro ma stai comunicando l'autore tu stai comunicando quindi niente era finalizzato a una vendita poi ovvio che se la gente andava a scoprire le cose perché ne aveva sentito parlare in diretta o aveva visto le varie persone che ne parlavano è una cosa però comunque niente era magari come la presentazione che comunque tu fai la presentazione e poi hai un riscontro di vendita questo è chiaro è un altro tipo di cosa è ovvio che a questo punto dopo dopo questo periodo qua da domani ci sarà la gente che inizia a lavorare quindi che sarà dovremmo ancora reinventarci un altro modo di comunicare perché se la gente inizia a lavorare alle 5 nessuno sta a guardare la mia diretta perché sono al lavoro si stanno spostando quindi sarà secondo me però smettono di lavorare per guardarla ovvio ma giusto però capisci che bisognerà dovremmo calibrarci ancora su un altro su qualcos'altro perché a quel punto fino adesso ci sono tutti seguivano le dirette le cose hanno guardavano i contenuti i video eccetera però se adesso se le persone iniziano a lavorare è un altro dobbiamo trovare un altro modo certo certo non sarà facilissimo e invece per gli autori come è andata cioè tu sei immagino anche in contatto più o meno diretto con tanti autori anche al di là proprio dei doveri professionali anche in modo quasi amichevole cioè magari gente per dire come va come non va eccetera e come come hai visto da parte dei tuoi autori che che si sono vissuti questa quarantena per esempio una curiosità che mi viene cioè la domanda vale anche in generale su come se lo sono vissuta in generale da quello che hai visto gli autori vari e in particolare una curiosità che mi viene è quella che ho letto tante speculazioni sull'idea del scrivere qualcosa sulla quarantena no? cioè chi farà qualcosa su quello per dire secondo te tra i tuoi autori c'è già stato qualcuno che ti ha proposto la graphic novel sulla quarantena sul coronavirus cioè da qui ai prossimi mesi vedremo uscire cento libri sul coronavirus cento romanzi sull'amore al tempo del coronavirus insomma mi chiedevo appunto anche dal punto di vista artistico come ha impattato questa questa situazione sugli autori allora guarda sulla seconda parte non lo so però ti so dire che tantissimi hanno ma l'ho ricontrato anch'io su me stessa a riuscire io avevo io ho avuto dei problemi a mettermi a lavorare per un botto di tempo cioè non riuscivo a fare delle cose giornaliere di quelle tipo rispondere alle mail più semplici eccetera ma mettermi a leggere uno storyboard a commentare qualcosa io per settimane non sono riuscita a fare niente e so che cioè sentendo un po' di autori mettersi giù a lavorare in questo periodo è stato molto più difficile che in altri periodi nonostante comunque cioè l'autore di Fometti passa un botto di tempo a casa a lavorare quindi non è che la vita fosse cambiata così tanto però comunque il fatto di tutte le cose che c'erano intorno è stato abbastanza duro per un sacco di gente e per tanti alcuni si sono interrogati sul fatto più che fare il libro sulla quarantena è se il loro libro cioè quando uscirà magari il loro libro a settembre ottobre come sa cioè se sembrerà una cosa anacronistica utopica il fatto che magari raccontano la quotidianità come era prima del coronavirus o cioè se sembrerà strano raccontare la vita normale quando in realtà la vita normale non è ancora tornata quello l'ho sentito in tanti che si sono interrogati oppure in alcuni che magari stanno lavorando a delle distopie e stanno dicendo cazzo il mio libro sembra quasi profetico sembra sembra che sto cavalcando l'onda invece in realtà magari sono libri che sono in lavorazione da un anno un anno e mezzo e quindi c'è un po' questa cosa ma anche un po' di insicurezza su cosa faremo su quest'autunno questo inverno c'è di libri sulla quarantena in realtà chi sta raccontando la quarantena di persone c'è Zero che sta facendo però i cartoni sulle Bibbia Quarantine e poi c'è Ortolani che posta le sue vignette ogni tanto però per ora un paio di proposal di sconosciuti sul coronavirus li ho avuti però questi qua subito all'inizio cioè tipo giorno 3 un paio di persone sulla mail generica che mandavano già la loro la loro cosa sulla quarantena c'era però non tanti cioè almeno per ora dal mio punto di vista mi sembra più una cosa che si vuole scavallare però magari sai cos'è il fumetto ci vuole tanto per farlo cioè probabilmente sulla narrativa ci sarà di più il fumetto è cioè ci vuole almeno un anno cioè se ti metti lì un annetto magari ce lo metti a farlo quindi uno pensa ok mi ci metto adesso però tra un anno dove stiamo cosa facciamo gliene fregarà ancora qualcosa non ne volevamo più sentire parlare lancerete una collana chiamata tipo restiamo a casa ce la faremo in cui ci sono tipo dei mostri che combattono con il coronavirus dei supereroi che combattono il coronavirus a pugni esatto esatto volevo fare questo annuncio con te in diretta stasera e uscirà Bao 40 no Bao 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 bello bello speravo speravo in questa collana in questo annuncio meno male che ce l'hai dato lo so lo so che ci tenevi e quali sono invece le novità più più croccanti che ci possiamo aspettare da da Bao di qui approssimamente sia quelle che magari sono state posticipate dalla situazione sia in generale quello quello che uscirà per esempio ho visto che sui social negli ultimi giorni si sta parlando molto di un libro dedicato anche al mondo del surf se non ho capito male sì allora vabbè noi il 14 usciamo già con con la con l'edizione espansa di Kobane Calling che doveva uscire quindi sarà Kobane Calling classico ma con aggiunta la la storia quella su Lorain Sorsetti che aveva fatto Michele su Internazionale e poi c'è una serie di cose sai la roba strana è che noi il 21 dicembre scorso eravamo a base e parlavamo delle novità per i dieci anni di Bao ed eravamo super contenti e aspettavamo questo 2020 tantissimo e adesso vedere i piani un po' un po' stravolti è strano e Bao Vid sta consigliando Tommy bello bello e quindi ci sono una serie di libri che sono in lavorazione che secondo me sono molto fighi cioè ad esempio quello sul surf per me è il mio libro preferito dell'anno ma ricordiamo che l'autore si chiama Ondate e lui l'autore è Ije Dango e questo ragazzo californiano che tra l'altro è l'assistente di quello che faceva le copertine di Fables quello che io ho i poster alle pareti James Jean e quello secondo me è un libro bellissimo che uscirà a luglio e poi comunque per l'autunno c'è il nuovo libro di LRNZ c'è la ristampa di venerdì 12 con un altro libro inedito di Ortolani c'è il libro di Sabiano c'è c'è un botto di roba e la cosa strana sarà trovare il modo di parlarne in modo diverso quello sì e quindi stiamo cercando di capire un po' come fare tutte le cose che hai nominato nel corso del 2020 quindi sì queste sono tutte nel corso del 2020 e poi ci sarà il nuovo libro di Michele di Zero Calcare ah beh certo a cui sta lavorando in questo momento sta lavorando in questo momento dovrebbe a pagina 90 più o meno in questo momento Michele quindi siamo è oltre la metà su un sì esatto su un libro che in finale sarà di 120 130 160 più o meno sarà no no è un libro il nuovo romanzo vero e proprio è il nuovo romanzo grafico che uscirà quest'anno e Michele ci sta lavorando è in lavorazione da non tantissimo in realtà abbiamo iniziato a lavorarci a dicembre più o meno ma lui è veloce ed è quello in cui si parla di lui che combatte il coronavirus giusto esatto no parla di lui che canta dal balcone canta l'inno d'italia che è un po' la sua cosa certo abbiamo cantato insieme anche in diretta a instagram insieme sì no 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 infatti immagino beh una notizia importante almeno per quanto mi riguarda che tendo di leggere con molta con molta con molte aspettative è appunto il libro di Saviano che peraltro era già stato rimandato per altri problemi non relativi a quarantena ma semplicemente ritardi cose sì no alla fine doveva uscire l'anno scorso poi Roberto ci ha rimesso mano perché voleva aggiungere delle cose perché voleva mettere delle cose nuove cioè non delle cose nuove però sentiva che c'era il bisogno di aggiungere delle cose noi eravamo pronti per uscire a maggio avevamo preparato tutto ci eravamo già organizzati con Roberto a fare tutte le cose con Roberto e Asaf perché il disegnatore è Asaf Anuka che è un disegnatore israeliano e quindi adesso dovremo probabilmente uscire in autunno però è ovvio che il momento che avevamo disegnato era dovevo uscire per il sogno del libro quindi tra due settimane questo quindi comunque il libro è finito il libro si è finito beh però adesso aggiunge la parte Saviano contro il coronavirus no? in cui lui lui e e cosa? e e Savastano sparano contro il coronavirus esatto contro il mare contro come la prima scena di Gomorra esatto no vabbè comunque quello non vediamo non vediamo almeno io sono molto curioso già da tanto tempo di leggerlo e spero appunto che che esca dovrebbe dovrebbe arrivare il problema è sempre comunque meno male che non l'abbiamo mandato in stampa cioè noi dovevamo mandarlo in stampa tipo due settimane a due settimane dopo il lockdown se noi lo mandavamo in stampa e ci ritrovavamo in un magazzino pieno di tutte quelle cose perché cioè il problema che quello fosse un libro con una tiratura alta e quindi ovviamente anche con un costo di impresa da anticipare molto alto che se poi non puoi vendere i libri è un'inculata e il problema è il costo di impresa e anche lo spazio fisico in magazzino perché anche solo il libro di zero quando sono arrivati erano tipo 90 bancali una roba devastante che quando se li hai visti arrivare in un nostro magazziniere c'è uno spazio limitato anche lui poveretto 90 balconi 90 balconi sì esatto ognuno aveva la bandierina esatto e ci fanno una domanda nei commenti non so se l'hai vista e se stai allora se stai in bandola o se invece no allora buon in bianco e nero dovrebbe arrivare cioè dovremmo ristamparlo credo abbastanza breve ovviamente le ristampe sono state tra le prime cose che sono state un po' bloccate da questo da questo coronavirus perché se non possono uscire in libreria tanto vale fare le ristampe building stories guarda al momento il problema è che costa tantissimo farlo e soprattutto i manufatturieri in questo momento per un libro così importante noi abbiamo un paio di cose che sono ferme perché sono delle lavorazioni speciali tipo c'è l'ultimo volume della tempesta della lega degli straordinari gentlemen che è fermo perché il nostro stampatore non fa gli occhialini 3D e quindi noi dobbiamo farli fare da una terza parte e questa terza parte al momento non c'è è chiusa nessuno ci rispondeva quindi ci sono una serie di cose che sicuramente subiranno ritardi anche per colpa di questa cosa certo ma tra l'altro Bon la vostra prima edizione era in bianco e nero o colori non mi ricordo Bon era stata in bianco e nero la prima poi più avanti poi colori e poi adesso di nuovo bianco e nero ma il bianco e nero credo che verrà credo che sia stato bloccato solamente perché non abbiamo fatto ristampi ultimamente però dovrebbe tornare a breve anche perché comunque i prezzi sono abbastanza differenti per avere due mercati perché comunque edizione in bianco e nero lo riesce a tenere in un costo sui 30 39 euro mentre l'edizione in bianco e nero l'edizione a colore è ovviamente più costosa perché costa di più fare il colore ma tra l'altro l'edizione diciamo originale è in bianco e nero è in bianco e nero l'edizione a colore è stata colorata successivamente perché era stato pubblicato da Scolastic in America per i ragazzini e quindi era stato pensavano che il bianco e nero non sarebbe stato abbastanza attraente per i ragazzini quindi avevano fatto la versione a colori no ma infatti anch'io il volumone originale io preferisco in bianco e nero il volumone originale che ho americano è in bianco e nero io sono sempre stata per il bianco e nero però potrebbe essere non so se mi sbaglio ma potrebbe essere che il volumone originale che ho io in bianco e nero in realtà fosse di tua proprietà e me lo sono fatto prestare e ce l'ho ancora io può essere però vabbè nel frattempo tu ti sei comprata direttamente i diritti è così che faccio cioè se io ti presto un fumetto poi dopo dico ah no che sbatti andarlo a prendere da fede e quindi mi compro direttamente i diritti dell'opera esatto perfetto vabbè prossimamente mi presterai l'uomo ragno tipo batman super tutto batman tutto batman tutti i più grandi supereroi del mondo e in tutto questo invece tu personalmente al di là del discorso professionale come ti sei vissuta la quarantena direi appunto soprattutto dal punto di vista dell'intrattenimento cioè che cosa hai guardato che cosa hai letto che cosa hai ascoltato e hai avuto anche tu quella per esempio che io ho avuto soprattutto all'inizio questa partendo con l'idea del ah adesso stando a casa lavorando da casa non uscendo la sera un sacco di tempo libero guarderò un sacco di film leggerò un sacco e poi all'inizio invece pochissimo nel senso che facevo fatica a concentrarmi su cose che non fossero o vabbè il lavoro o poi nel tempo libero social e notizie fondamentalmente l'idea proprio di mettermi lì a leggere un romanzo nonostante magari fosse una cosa che teoricamente avevo voglia di fare facevo un po' fatica adesso devo dire che un po' da questo punto di vista mi sono sbloccato ho guardato un po' di film ho guardato un po' di serie eccetera però mi chiedevo appunto se anche tu hai vissuto un po' questa difficoltà e in generale comunque che cosa hai fruito in questi mesi allora io sono partita abbastanza in pompa all'inizio anch'io super ho detto adesso mi faccio mi leggo tutto mi guardo tutte le cose che non mi ero guardata ho iniziato bene perché te l'avevo detto che c'avevo quel pallino per il Messico negli ultimi soprattutto sui libri quindi mi sono letta Il selvaggio di Arriaga che era una roba che zero mi continuava a dire da mesi quello lì l'ho letto abbastanza in fretta nonostante comunque sia un librone poi sempre prendendomi dalle offerte un po' in giro mi ero pesa mi sono letta tutto vite che non sono la mia di Carrer che però non mi ha fatto impazzire e adesso mi sto leggendo Il potere del cane per rimanere in Messico che quello mi sta piacendo molto e sto riuscendo un po' a leggere ho avuto le settimane centrali un pochino di scoraggiamento che non riuscivo a fare niente adesso riesco di nuovo a leggere un po' io è che sul potere del cane di Don Guislo dobbiamo salutare Gue Pechegno perché è il suo libro è il suo libro preferito quindi dobbiamo salutarlo per forza per questioni contrattuali che sicuramente ci sta guardando tra l'altro sono abbastanza certa di questa cosa che era proprio interessantissimo interessatissimo questa io sto seguendo con particolare affetto la campagna di Jake La Furia contro contro la regione lo Stato e il sindaco di Milano lo sto anche col sindaco di Milano cioè? sì almeno i primi giorni lo taggava taggava anche a Sala poi ha smesso continuava con Conte e con Borrelli poi ovviamente la cosa che più ho guardato in questo periodo è la vita di Leone Ferragni che è stata un po' la cosa che ho seguito più con più entusiasmo e con ho sempre dimenticato di citarlo quando no è importante i miei consumi culturali durante la quarantena ma effettivamente la crescita la vita e il caso di Leone Ferragni sono stati importanti anche per lui vero come fumetti o di cose che non fossero lavoro ho letto praticamente niente su quello mi sono bloccata abbastanza ho letto un po' di cose che magari dovevo leggere per dare delle risposte ad editore stranieri eccetera ma di cose che ho letto ho una tipo una pila di manga altissima di là che però non ho ancora toccato nonostante sia una cosa che di solito mi piace fare e su quello mi sono trovata bloccata sui dischi non ho ascoltato tantissima roba nuova le robe che ho ascoltato sono che mi sono piaciute sono stati senni e sto sentendo il nuovo car seat address però non sto ascoltando cioè sto ascoltando magari roba portando fuori il cane però quando porto fuori il cane ho voglia di sentirmi roba che posso canticchiarmi sotto la mascherina come una coglione e quindi ogni tanto mi ascolto G Smith mi ascolto boh delle robe a caso e musica nuova non ho ascoltato tantissimo comunque ascolti musica soprattutto in mobilità quindi ma no anche in ufficio di solito è proprio lo stare a casa che forse in questo periodo dicevo in questo periodo ah sì quando porto fuori il cane hai sentito anche tu questa cosa di cui si sta parlando che il mercato dello streaming musicale a differenza di quanto magari ci si poteva aspettare che comunque stando tutti fissi fermi a casa la gente magari avrebbe ascoltato un po' di musica e streaming invece è sceso ho visto che è sceso un botto è sceso di brutto a vantaggio invece che sono saliti ovviamente i vari Netflix streaming eccetera e tantissimo le piattaforme di gaming online sono cresciuto un botto mentre invece appunto lo streaming musicale ho letto che ha avuto dei cali veramente spaventosi anche non così prevedibili che invece probabilmente hanno dimostrato che la maggior parte degli ascoltatori ascolta appunto Spotify e questo tipo di piattaforme principalmente quando è in giro e non quando è in casa cioè tipo la più grande fonte di visione di sentire canzoni per me è stata guardarmi i concerti di Radiohead che mettono ogni venerdì in diretta quello tipo un appuntamento fisso però anche lì è vedere la visione in streaming di qualcosa nonostante non sia in diretta però comunque la visione di qualcosa di ascolto puro di musica è stato un pochino più difficile per me perché boh me l'ascolto quando lavoro me l'ascolto quando sono in mobilità ma molto meno quando sono cioè è una roba mia non lo so non so dirti però in effetti ho notato questa cosa mentre di serie tv è un millennial quindi sei molto millennial direi perché appunto come i millennial che ascoltano la musica appunto quando sono in autobus quando vanno a scuola eccetera quindi questa cosa nei tuoi consumi riflette il tuo essere una teenager fondamentalmente no no i millennial siamo noi guarda che i millennial siamo io e te ah no io volevo dire noi siamo dentro l'altra non so com'è generazione X cos'è no no X siamo noi credo no noi siamo millennial noi di sicuro siamo millennial perché sono nati fino tipo agli anni 90 prima comunque no io volevo volevo darti della teenager grazie mi sento molto dentro teenager e come serie tv allora mi sono vista un sacco di documentari perché ho visto vabbè ho visto Tiger King ho visto quello su Beastie Boys in cui ho pianto tutte le mie lacrime e poi ho visto ho visto quello su Aver Music e sto vedendo The Last Dance quello su E-Bulls quello mi sta piacendo un sacco perché poi Tommy dopo mi spiega tutti gli schemi del basket e questa cosa qua poi mi spiega il triangolo sì sì ho una spatella così di messaggi in cui mi spiega il triangolo no quello anch'io lo sto vedendo e tra l'altro devo dire che forse mi sono adesso per ora per chi non l'avesse visto sono in tutto dovrebbero essere mi sembra dieci puntate sì ne sono uscite quattro due per volta lunedì e ne sono uscite quattro due e due e devo dire che a me forse adesso la puntate cioè la coppia tre e quattro è piaciuta anche di più della uno e della due cioè la tre con Rodman e la quattro con tutto il discorso il paese in cui Rodman sparisce va a Las Vegas è fighissimo bello bellissimo sì anche però anche appunto la seconda parte in cui cioè l'altra puntata in cui c'è tutto il discorso in cui finalmente riescono a battere dopo tanti anni Detroit eccetera mi ha molto pensato sì quando c'è tutta la parte anche quando spiegano che comunque la strategia dei Pistons era buttare giù Jordan prima che potesse saltare quello è molto figo e poi in generale menare menare forte sì esatto e invece come serie tv mi sto vedendo Better Call Saul anche se Zero Calcare me l'ha me l'ha spoilerato l'altro giorno aspetta aspetta a che punto sei tu? ah no ma tu forse non ci sei ancora arrivata io lo so ma perché tutti vogliono spoilerarmi Better Call Saul no ma non è una no no comunque questo non era uno spoiler non è una è un è un gesto cioè non è uno sparo è che a un certo punto c'è un dialogo e una persona risponde all'altra persona non ti spoilerò niente facendogli come dire ok era lì era solo solo che si come una puntata no non sono ancora arrivata una puntata sono alla terza della terza ok scusate ho spoilerato senza spoilerarlo allora senza spoilerarlo ai nostri non lo spoilerò però gli ho detto guarda secondo me io ho smesso di guardarlo perché c'era un personaggio che mi stava molto antipatico e che mi dava fastidio e quindi quel personaggio lì ho detto vabbè un po' mi rovinava la serie e lui mi ha detto ah ma tanto tanto si è tolto dai coglioni e quindi ovviamente mi ha spoilerato però devo dire che me lo sto guardando con un altro gusto aspettando che arrivi quel momento penso anche di aver capito a chi faccia riferimento credo che sia abbastanza palese e poi mi sono visto Tales of the Loop l'hai visto? no no bellissimo è quella fantascienza emo che piace a me e Devs l'hai visto parlano molto bene anche di Devs Devs non l'ho visto che è quello di Alex Garland ok ho visto che parlano anche molto bene di Normal People della Runei però a me i libri non piacciono quindi non ho parlano bene ma non fa per me ah tra l'altro nonostante noi stiamo utilizzando un format cioè il nome di questo format è vero scusa Sally scusami che tra l'altro ci guarda ci guarda sempre no io in realtà allora parlarne tra amici l'ho letto e mi è piaciuto abbastanza non sono fan ecco invece Normal People l'ho cominciato ma non l'ho finito e francamente non mi fa molta voglia di guardare la serie più che altro non è tanto il mio genere la roba un po' così no neanche la mia no invece appunto di Stoders o di Alex Garland ho visto che stanno parlando bene in tanti io ho recuperato che non avevo mai visto I'm not okay with this che nonostante tutti ne abbiano parlato abbastanza male mi è piaciuto un sacco per come racconta tutta l'adolescenza quella cosa lì con un po' con i superpoteri e in mezzo quello mi è piaciuto un sacco e poi mi son vista tu l'hai visto lo stand up di Pete Davidson no bello quello secondo me ti piace più di quando ti avevo consigliato John Mulaney che è un pochino più pulitino secondo me Pete Davidson è figo anche perché comunque fa tutte le robe i riferimenti a Ariana Grande eccetera e quindi fa ridere ma tu hai visto io no non ancora però credo che lo guarderò nonostante io ora non lo ami più però vabbè insomma la questione è hai visto il nuovo stand up di Louis C.K.? no non ancora non ancora ero curiosa però è che mi mi scocciava avevo visto che lo vendeva sul suo sito ma un po' mi scocciava quindi mi sembrava e vabbè e detto questo no io tra l'altro ho visto vabbè appunto sono come sanno tutti quelli che hanno visto qualcosa su The Cameret visto che ne ho parlato ogni volta anche perché è abbastanza lunga quindi tipo fino a questa puntata dicevo sempre sto guardando Better Call Saul in realtà adesso sono arrivato sono arrivato in pari e tra l'altro sbatti nel senso che appunto manca questo non è uno spoiler lo saprai anche tu manca una stagione e peraltro credo che allo stato attuale delle cose non si sa neanche quando e come la gireranno beh certo e quindi boh invece se ti capita è una roba un po' strana io però io l'ho visto dal vivo che su Netflix hanno messo due o tre speciali di Middle Ditch e Schwartz che uno è Jean-Ralphio di ah Jean-Ralphio e l'altro è il protagonista di di Silicon Valley che fanno uno speciale comedy di di improvvisazione quindi comunque è interessante perché è proprio improvvisazione cioè io ne voglio vedere uno per capire se quello che ho visto io a San Diego cioè se mi stavano coglionando col fatto che facevano sempre uno spettacolo uguale ma non credo però cioè mi sembra un esperimento figo perché comunque è abbastanza diverso da tutto quello che vediamo ma tra l'altro mi ricordo che me ne avevi parlato quando l'avevi vista a San Diego sì 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 e adesso c'è su Netflix ne hanno messi tipo non ne ha messo uno ne ha messi due o tre ma addirittura non stiamo parlando di una cosa invece molto importante mi è venuto in mente adesso The Midnight Gospel l'hai visto? allora lo sto guardando e ci sono dei momenti in cui dico forse ha ragione ehm ehm com'è che si chiama quello che dice di no alla droga continuamente forse ha ragione vabbè uno di quei politici che dice cioè è figo è figo il concetto eh giovanardi giovanardi esatto a un certo punto ho detto ha ragione giovanardi basti con questa droga ai giovani no però il concetto è figo il concetto è figo però è è un po' troppo è un po' tanto io devo dire che allora non so a che punto sei arrivata tu sono otto puntate no? sì io sono a metà io sono esattamente a metà ne ho viste quattro tra l'altro anche perché non riesco a guardarne più di due puntate di fila no no è impossibile è una roba è impossibile è una roba veramente impegnativa veramente una mazzata e devo dire che allora all'inizio quando ho visto le prime due puntate la mia impressione è stata allora vabbè tanto per cominciare non è Adventure Time cioè Adventure Time è geniale divertente pazzo di intrattenimento a me questo qua all'inizio mi ha un po' dato l'idea allora è interessante è bello è ben fatto è però l'ho trovato anche criticabile nel senso che in primis fondamentalmente è basato su questi podcast di fricchettoni americani che parlano tra di loro che poteva essere una roba tipo Pendleton World su Twitter dice oh bomba questo podcast e io non me lo sarei mai andato ad ascoltare mentre così facendo mi obbliga a sorbirlo anche se magari è una roba che non mi sarei sorbito in realtà e soprattutto ho pensato un po' che fosse molto scollegato l'aspetto audio con l'aspetto video cioè ci sono questi dialoghi e nel frattempo queste animazioni ma soprattutto fai una fatica della Madonna a seguire le due cose contemporaneamente e boh in realtà più vado avanti più mi sembra che forse comunque simbolicamente ci siano dei collegamenti tra quello che senti e quello che stai vedendo però è molto complesso e boh infatti mi piacerebbe anche magari leggere degli articoli approfonditi che spiegassero un po' bene la cosa e boh comunque sì è molto strano faticherei a consigliarlo senza problemi a chiunque sì no esatto però tutto sommato comunque è un esperimento figo e secondo me è interessante vedere anche come ragiona l'autore senza avere tutti i paletti che devi avere per quando fai una cosa per ragazzi alla fine però ad esempio non lo so a me quando si va un po' sull'onirico ogni tanto sulla cosa un po' così non lo so mi sembra sempre di aver bisogno un pochino più dei piedi per terra ogni tanto ma per come piacciono a me le cose però è sicuramente un esperimento interessante ad esempio stasera ricomincia in America ricche e morti e per me ricche e morti è una roba che è una delle mie robe preferite al mondo ecco certo io invece nell'ultima settimana cioè in realtà negli ultimi due giorni ho anche visto due film che mi hanno fatto cagare tutti e due possiamo ok io ho visto solo film che mi fanno cagare io li ho visti solo film brutti ultimamente pure io allora io due film che ho visto in questi due giorni che non mi sono piaciuti per niente sono The Hunt ok e e invece un film vecchio che non avevo mai visto che è Enemy di Denise Villeneuve con Jake B ok e non mi sono piaciuti per niente nell'uno nell'altro però se non li hai visti magari evitiamo di spoilerare no non ho visto nessuno dei due però tra le cose aspetta non mi sono piaciuti nell'uno nell'altro nonostante entrambi comunque mi siano o stati consigliati da persone di cui apprezzo solitamente i consigli o non mi sono stati consigliati direttamente ma ne ho letto scrivere bene da persone di cui solitamente mi fido ok entrambi li ho trovati veramente no e poi vabbè non sto ad annoiarti sul perché o per come visto che non li hai visti quindi non c'è un dialogo a riguardo guarda no infatti mi spiace però ad esempio tra le cose tu invece cosa hai visto che non hai apprezzato dicevi allora ho visto tutti i film in cui non esplodeva nulla quindi non mi è piaciuto nulla ma perché sono una bestia io ad esempio ho visto la favorita e per come sono io non è tra i miei film preferiti però la favorita è piaciuta a me non esplode niente io ho sto problema qua ok come diceva io sono una bestia come diceva Jake Lafour esco dal cinema se dopo dieci minuti nessuno muore guarda per me l'esempio più lampante è stato Patterson per me Patterson è stato il film che più ho sofferto durante la mia vita al cinema e quindi ho capito che se non esplode niente quasi quasi io mi alzo e vado via certo cosa ha detto Tommy bravo cioè quel finale poi se vuoi ne parliamo un'altra volta ma quel finale è una roba che non sta né in cielo né in terra ma poi ho letto ovviamente anche tutte le varie teorie psicologiche ma sono attaccate col culo e soprattutto ho anche letto che ho letto tutta la trama del libro di di coso come cazzo si chiama di Saramago da cui da cui è tratto e in realtà quel finale ovviamente è completamente inventato da 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 Villeneuve perché il finale di Saramago in realtà è molto più figo se tu ti vuoi leggere la storia del film la storia del romanzo più o meno il film la ricalca con poi però un finale molto più figo quel finale cioè veramente uno dei finali più a caso dell'universo secondo me avete proprio fatto passare qualsiasi voglia no ma guardalo perché secondo me no non credo da vedere per dire per dire boh ma che cazzo è però vabbè basta no dicevamo appunto poi cos'è che hai visto che non ti è piaciuto o anche cosa ti è piaciuto eh o anche cosa hai visto che ti è piaciuto di film credo di aver finito la mia cioè ho visto la favorita ho visto un film brutto tratto da un libro brutto di Nicorbi perché non non sapevo cosa fare però adesso Sky mi ha messo il canale con solo Tarantino io sono molto felice e quindi mi sto guardando a manetta Kill Bill l'ho già visto tre volte e basta cioè non lì qualcuno muore sì un sacco muore esplodono si menano lì puoi stare tranquillo un sacco no devo dire che Sol in questi giorni mi sta prendendo gran parte del mio tempo eh ma anche a me alla fine comunque è abbastanza lungo e sì comunque ti piglia c'è una bella è fatto bene ho l'unico problema che alcune cose cioè capi ovviamente tutti i riferimenti a Breaking Bad figata li colgo eccetera però ci sono delle cose che non mi ricordo più di Breaking Bad quindi un pochino mi è mi è pesato cioè l'altro giorno ho cercato eh cosa faceva qual era il ruolo di Mike in Breaking Bad perché non me lo ricordavo più ok beh era tipo lo scagnozzo di Gastro di Gus sì però non me lo ricordavo più non avevo più memoria di questa cosa no io non mi ricordavo boh cioè secondo te possiamo cioè direi che Breaking Bad ormai è fuori dal mondo spoiler ma madonna sì no cioè mi fa ancora più impressione pensare a come poi muore Mike cioè no non me lo ricordo come non te lo ricordi vabbè lo ammazza lo ammazza cosa lo ammazza ah sì l'ho letto lo ammazza molto ammazza Walter White tipo nell'ultima io non mi ricordo più un cazzo io non mi ricordo mai niente ma l'ho fatta a caso così perché cioè boh alla fine siamo stati troppo a contatto eh boh pam ti sparo in testa e cioè la cosa è ancora più assurda vedendo cioè già l'avevi visto in Breaking Bad ma vedere adesso ancora di più in Better Console tutte le robe che ha fatto Mike quanto cazzo faceva brutto Mike quanto cazzo ha vissuto quante robe assurde ha fatto sì e poi è stato ammazzato a caso ma infatti visto che faceva tutte ste robe mi sono detta perché io non me lo ricordo più e quindi sono andata per fortuna su sito HBO cioè no cos'era non era HBO oh sì era HBO sì era HBO c'era tutta una cioè Mike mega figo oggi preferito di Breaking Bad no ma mi ricordavo che era figo mi ricordavo che mi piaceva però non mi ricordavo più che cosa faceva no beh io ho grosse dimenticanze sulla trama vera e propria quello sì cioè se mi chiedi come è andata questa cosa qua come è andata no mi ricordo come muore Gaspring nel senso che mi ricordo la famosa immagine della mezzo distrutto mezzo no però non mi ricordo neanche bene il contesto poi ovviamente io mi sto guardando Westworld in diretta cioè mi sto guardando episodio per episodio eh boh avevo visto la prima stagione ma questa è una bella stagione che non c'entra niente con la prima mettiamola così ok cioè è molto figo ma potrebbe essere anche un una roba completamente distaccata da tutto quello che è stato anche quasi la stagione prima ma però comunque a me è piaciuto ma l'ambientazione è ancora Western no da quando? da dopo la prima allora nella nella stagione scorsa ci sono visti gli altri mondi che che c'erano cioè tu potevi scegliere il West potevi scegliere il Giappone potevi scegliere le varie ambientazioni questa è eh ambientata nel in quella che dovrebbe essere la realtà ok è ovvio che ci sono state delle robe che non sono la realtà però eh è nella realtà ma questa è la terza sì dovrebbero essere cinque ma dimmi una roba tu l'hai visto invece The Leftovers no avevo visto la prima stagione e mi sembrava che mi succhiasse via la vita e allora non sono andata avanti però so che io non l'ho visto però ho visto che se ne è parlato molto bene e mi ha un po' incuriosito poi soprattutto il fatto che l'ha scritto Lindelof che comunque a me è piaciuto tanto Watchmen Watchmen mi è piaciuto un sacco anche a me però eh non stavo dicendo mi è piaciuto tanto Lost stavo dicendo mi è piaciuto tanto Watchmen ho detto ho detto Watchmen anch'io ho detto Lost no ok e però Watchmen è un sacco di lavoro secondo me Watchmen bellissimo bellissimo che ho visto negli ultimi anni proprio in assoluto no cos'è che ti stavo dicendo stavi dicendo Lindelof ah Leftovers so che ne parlavo con Zero un po' di qualche mese fa e lui mi ha detto che in realtà il finale ti ripaga cioè a lui non è piaciuta fino al finale il finale dice che è bellissimo ok e in realtà però quel film di merda che ho visto l'altro giorno che è The Hunt è scritto da Lindelof quindi ancora non siamo del tutto ok io sai che sul finale di Lost ho ancora ancora i miei problemi eh anch'io quindi quindi appunto con me poi si era un po' cioè diciamo che dopo Watchmen avevo detto ok va bene dai siamo a posto zio e invece invece devo dire che sto The Hunt proprio se lo poteva ficcare mentre io con JJ ho ancora un conto aperto cioè JJ mi ha dato dei grossi problemi secondo me nella vita e quindi ce l'abbiamo cioè JJ se ci stai ascoltando abbiamo ancora un problema e delle cose un conto da da sistemare beh lui dopo Lost cos'è che ha rovinato? Star Trek? Star Wars a me è sempre che è piaciuto l'ultimo episodio di Star Wars è stato una grossa perita che mi sto portando ancora dietro ok ma l'hai fatto? no vabbè magari questa è una domanda che non si può fare ti stavo chiedendo Disney? no non l'ho fatto non so magari siete concorrenti non si può parlare no allora guarda lo farei solamente per vedermi The Clone Wars che io non ho mai che ho visto solo gli episodi a pezzi ma io di rivedermi la sirenetta non è non è tra i tuoi principali no no non è cioè mi sembra che ti sia se faccio il rapporto cose che guarderei rispetto a cose che non guarderei è molto di più le cose che non guarderei ma cosa ne pensi così dai chiudiamo con una domanda di marketing dei media molto approfondita cosa ne pensi di questo fatto che appunto stiamo andando sempre di più verso una frammentazione del mercato dello streaming cioè fino a qualche cioè fino a 8 anni fa praticamente c'era Netflix poi è arrivato Prime anche a cominciare ad essere un competitor interessante anche soprattutto per il fatto che magari molti ce l'avevano già eccetera e adesso sempre di più credo che stiamo andando verso una strada in cui ognuno si fa la sua piattaforma solo che poi finisce che uno per avere tutto deve o pagare 200 robe o scegliere quelle che preferisce mentre magari in un altro contesto di intrattenimento come può essere quello di Spotify della musica non c'è che tipo Universal ha la sua piattaforma e Sony ha la sua piattaforma ma c'è un contenitore unico come la vedi questa roba soprattutto allora vai 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 questi due diversi cioè questi due diversi settori stiano intraprendendo strade completamente diverse beh di sicuro secondo me uno dei dei problemi grossi è anche l'attenzione che tu riesci a portare sul pubblico cioè una volta quando usciva Lost eravamo tutti a guardare Lost e secondo me è un lavoro ancora più difficile riuscire a canalizzare l'attenzione del pubblico sulla cosa che stai facendo perché è ovvio che se c'è una sola cosa o c'è una sola serie di cose che però sei sicuro che tutti hanno accesso a questa cosa è più facile poter avere il pubblico canalizzato che guarda solo questa cosa invece avere tutte le piattaforme non poter scegliere non poter cioè scegliendone tante non scegliendo più l'orario in cui far vedere le cose è sicuramente abbastanza difficile anche per per chi fa promozione marketing di queste cose riuscire a catturare l'attenzione del pubblico e poi dall'altra parte sicuramente c'è la cosa buona è che ci sono tante piattaforme che possono che possono mettersi a lavorare su cose di autori originali quindi da una parte hai la possibilità di un sacco sia dagli autori di essere più liberi sia di dare lavoro a più a più a più entità a più gruppi di lavoro eccetera però dall'altra parte è difficile perché o parti subito col cioè forse ti dà cioè devi avere la possibilità di partire subito col botto o avere subito non lo so un tipo di prodotto che colpisce l'attenzione oppure è più facile che alcune cose vadano nel dimenticatoio o comunque cadano di non poter avere una seconda stagione di non avere abbastanza pubblico cioè hai più possibilità ma hai anche più possibilità di fallire quello sì anche cioè dal punto di vista del consumatore cioè io escludo che mai mi farò l'abbonamento a dieci piattaforme sì a un certo punto sceglierai cioè poco da fare quindi sarà una targettizzazione del prodotto ognuno troverà una sua nicchia e spererà che quella nicchia abbia abbastanza persone sì no boh poi magari magari ci sarà chi punterà di più su prodotti più alti chi più di intrattenimento più nazionale popolare chi magari punterà più sul crime chi più sul teen drama boh però non lo so è anche brutto cioè non lo so forse mi piaceva di più che una casa producesse magari con la sua con la sua con la sua impronta di un certo tipo anche però contenuti diversi boh non lo so secondo me il messaggio che è arrivato no pensavo che fosse sì allora mi dicono di non andare oltre le 22 20 quindi sono le 22 direi che ci siamo sono le 22 17 quindi direi che ci possiamo salutare e aspetta che ok e quindi sì a meno che tu non abbia altre cose da aggiungere se non ti vuoi raccontare qualche cos'altro se i nostri spettatori non hanno delle domande da fare in chiusura direi che possiamo salutarci ti ringrazio per essere stata ospite a questa puntata odierna di Parlamento Amici di averci raccontato un po' di Bao e del futuro e del presente di come si sta vivendo la situazione Bao e in generale un po' comandata la tua quarantena grazie a te e vienimi a trovare col cane tu stai sveglio per favore grazie buonanotte a tutti vediamo la prossima con un nuovo ospite a Parlane Tra Amici che in questo momento non so ancora chi è quindi non ve lo posso annunciare grazie se vuoi il mio cane sì il cane di Caterina grazie a tutti ciao buonanotte ciao buonanotte grazie